Sono Rotondi Maurizio, amministratore delegato della ditta Mauri Moda, un'azienda che sta crescendo con il suo brand Cinzia Soft e Pregunta, i due marchi che per l'azienda sono prioritari. Siamo al secondo giorno di fiera, devo essere abbastanza contento, in quanto l'affluenza la vedo abbastanza positiva. Abbiamo raggiunto già il budget previsto, addirittura per i primi tre giorni, e dopo due giorni siamo abbastanza soddisfatti. Diciamo che è la terza fiera che facciamo quest'anno nel mondo, dopo Tokyo, Riva del Garda, siamo in prossimità di partire per Parigi, Shanghai e altre fiere, e abbiamo già fatto anche Mosca, fra l'altro per cui è la quarta fiera, retifico. Siamo abbastanza soddisfatti, anche se notiamo una certa difficoltà di penetrazione al mercato mondiale, in quanto il dollaro ci sta penalizzando tantissimo, anche se siamo fiduciosi per un incremento nei prossimi mesi. Prevediamo un altro incremento nel 2014, confermando il 2013 che era un incremento del 18% aziendale. Il nostro obiettivo è l'export, sicuramente l'export, visto che è la nostra valvola di sfogo necessaria per pareggiare la bilancia dei nostri fatturati. Noi abbiamo 3.000 clienti in Italia e vogliamo arrivare a un 30%, almeno 35% del nostro fatturato in export. Speriamo di riuscirci, contiamo di riuscirci, già con questa fiera abbiamo avuto degli esiti positivi. Siamo in attesa appunto di spostarci a Parigi, dove ci attendono delle buone prospettive. Il nostro sito internet è www.maorimoda.it. Grazie